tra gli infortuni su un campo che me preva il campo dei profughi questo tefano me preva il campo dei profughi perché il campo piccolo così se giocavo a calcetto io e con tutti voi amici del grifo giocavo tutti insieme nel campo dei calcetto anzi scusate no calcetto no calciotto sì calciotto sicuramente perché è un campo di merda e soprattutto un campo pesantissimo perché io che sto qui nelle marche lo vede appunto sta piovendo da due giorni consecutivamente e c'è un tempo di merda quindi è normale che ci sia un campo del cazzo